E' stato trovato dalla polizia in possesso di 3,39 grammi di hashish a finire nei guai un giovane nisseno che venerdì sera nell'ambito dei controlli del territorio previsti nel piano Trinacria attuati in collaborazione con il Nucleo Prevenzione Crimine di Palermo è stato fermato dai poliziotti in via Napoleone con la Ianni ad attirare l'attenzione degli agenti l'atteggiamento irrequieto del giovane che era a bordo di una rover. Visti anche i precedenti di polizia specifici riguardanti i reati sugli stupefacenti i poliziotti hanno deciso di procedere alla perquisizione del mezzo e personale rinvenendo nascosta nella tasca dei jeans del ragazzo una bustina trasparente con l'hashish è scattata così la segnalazione alla locale prefettura per detenzione di stupefacenti e ritiro della patente di guida mentre la droga è stata sequestrata. Giro di vite venerdì sera della polizia municipale contro la sosta selvaggia in centro storico 42 le sanzioni al codice della strada elevate e 8 i veicoli in divieto di sosta rimossi con il carroattrezzi. 800 le uova sospette poiché senza il marchio della tracciabilità sequestrate un commerciante di aggira sabato mattina a Pian del Lago dal nucleo ambiente e sanità della procura di Caltanissetta in collaborazione con il corpo forestale e gli ispettori dell'ASP. Sequestrato anche il furgone utilizzato per il trasporto delle uova mentre l'uomo è stato denunciato per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Risveglio brusco anniscemi per i residenti di Via De Gasperi a causa di un incendio di un'autovettura di proprietà di un commerciante 43enne. I piromani sono entrati in azione alle 4.30 a sedare le fiamme che hanno danneggiato il vano motore dell'auto e i vigili del fuoco. Danni in corso di quantificazione sul caso indaga la polizia. Tre le persone denunciate dal commissariato di Gela in questi giorni un 18enne per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere un 54enne per il reato di furto di energie elettriche e un romeno trentenne poiché sorpresa la guida di un ciclomotore senza patente in quanto mai conseguita.